Avvicinare i giovani e giovanissimi al mondo della musica, facendo conoscere loro, attraverso concerti, proiezioni di film, spettacoli musicali e lavoratori, tre grandi compositori lucchesi dal calibro di Boccherini, Geminiani e Puccini. Questo è l'obiettivo che si pone la manifestazione Musica Ragazzi, ideata e curata dall'Associazione Musicale Lucchese, con la collaborazione del Centro Studi e dell'Istituto Superiore Studi Musicali Luigi Boccherini e il Liceo Musicale Passaglia, con il sostegno del Comune di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Mario Tobino. L'evento, giunto alla sua sesta edizione, aprirà i battenti giovedì 19 al Teatro di Pontamoriano, con l'esibizione degli allievi del Liceo Musicale Passaglia, istituto che quest'anno tra l'altro entra a piano titolo nella rosa dei nuovi licei musicali istituiti dal Ministero della Pubblica Istruzione. Giovedì 9 febbraio sarà poi la volta degli alunni dell'Istituto Boccherini, che si esibiranno in un concerto dedicato ai bambini dai 6 a 14 anni. Omaggio a Boccherini in occasione del 269esimo compleanno sabato 18 febbraio, con il violoncellista Giovanni Sollima, mentre il 10 marzo verrà reso omaggio a Federico Geminiani in occasione del 250esimo della morte. La seconda metà di marzo è invece improntata a promuovere il nome e le opere di Giacomo Puccini, con giornate dedicate alla bohème. Ad aprile invece sarà la volta dello spettacolo su e giù per le scale e del concerto delle Voci Bianche della Cappella Santa Cecilia. La rassegna musicale si chiuderà il 19 maggio, con due concerti dal titolo Boccherini al Ponte e Boccherini sulle Mura. Grazie.